Ciao, sono Alessandra Canuti, Master Crystal Nails. Voglio presentarvi con questo video una delle tante novità arrivate per l'estate 2021. Si tratta di Aurora Glass Foil Set, tanti iridescenti foil di tanti colori che ci aiuteranno ad arricchire le nostre strutture e, perché no, a realizzare delle nail art veloci ed effetto. Andiamo a capire qual è il corretto metodo di utilizzo con un breve video tutorial e, soprattutto, la particolarità e la caratteristica di questo prodotto. Aprendo la scatolina, troveremo 5 diverse colorazioni di foil. Questi foil risultano essere semi trasparenti e iridescenti. Di fatti, ognuno di esso presenta delle sfumature di colore diverso. Ricordano proprio l'effetto vetro e ricordano tutte le sfumature dell'aurora boreale. La differenza tra i classici foil tradizionali è proprio nel metodo di utilizzo. Questi foil possono essere utilizzati ritagliandone direttamente un pezzettino, appoggiandolo magari su una base di prodotto trasparente e non polimerizzata. Ho già creato una sfumatura utilizzando due dei nuovi tre step, un fucsia e un corallo fluo. Ho polimerizzato in lampada 60 secondi e sulla dispersione del tre step applicherò uno strato sottile di Profoil Gel, che è il prodotto che nasce appositamente per l'applicazione dei foil. La differenza sostanziale dal metodo tradizionale è proprio quella che, prima della polimerizzazione del Profoil, dovremo applicarci al di sopra delle striscioline pretagliate di foil. Solo dopo aver terminato la polimerizzazione, questi foil saranno perfettamente incapsulati in quello strato sottile di Profoil Gel. Ho appena polimerizzato il nostro Profoil in lampada. Le striscioline di foil che ho applicato pretagliate si sono incapsulate perfettamente nel prodotto, pertanto non si staccheranno. Tuttavia il foil rilascia uno strato sottile di spessore, e allora ho scelto di sicillare la nostra superficie con un Topsy Light, un top più viscoso che ci permette di livellare quei piccoli dislivelli. Se volessimo però ottenere un effetto opaco e quindi satinato del nostro foil, dovremmo andare ad opacizzare il Topsy Light con un buffer, e poi potremmo rendere la superficie matte utilizzando il nostro Mattever. Questo è dunque il risultato finale. Io preferisco l'effetto satinato che rilascia il Mattever. Ora vi aspetto in tutte le aule Crystal Nails d'Italia per svelarvi tanti altri trucchetti per delle nail art veloci e da effetto wow. Un grande abbraccio e a presto!